Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Siamo stati presenti dal primo giorno e ci siamo attivati immediatamente per promuovere ogni intervento utile a eliminare le criticità presenti da anni nell'impianto di Cupello con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini. Ha esordito così l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli nella conferenza stampa nel corso della quale ha replicato le critiche sollevate dopo l'incendio di domenica nell'impianto consortile di Vallecena a Cupello. Con lui il presidente della seconda commissione consigliare Ambiente, Territorio e Infrastrutture Emanuele Marcovecchio, ex sindaco di Cupello, il direttore dell'Arta Abruzzo Francesco Chiavaroli, il commissario del consorzio intercomunale Civeta Valerio De Vincentis e il consigliere regionale Sabrina Bocchino. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in occasione dell'incendio. È stato un lavoro straordinario, ha detto Campitelli. L'Arta ha effettuato immediatamente le verifiche nell'area e gli esiti dei prelievi, soprattutto quelli eseguiti fuori dal perimetro della discarica, sono negativi. Noi, osserva ancora l'assessore Campitelli, non conosciamo la tipologia dei rifiuti conferiti nel corso degli anni nella discarica di Cupello e pertanto abbiamo profuso un'attenzione massima dopo l'incendio. I prelievi sono stati effettuati nella stessa notte dell'incendio e, su mia indicazione, ripetuti nella giornata di lunedì. I prelievi non hanno riscontrato fattori inquinanti nell'area nei pressi dei centri abitati. Lo ripeto, non abbiamo sottovalutato il problema, ha detto ancora l'assessore regionale all'ambiente. La Giunta regionale ha deliberato diversi provvedimenti nella seduta di ieri a Pescara. La prima delibera riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà occuparsi della gestione delle acque di bagnazione nella città di Pescara, facendo seguito a quanto emerso durante la riunione tecnica del 21 giugno scorso, che si era tenuta presso il servizio Opere Marittime e Acque Marine, e in vista della necessità di assicurare un coordinamento con il Comune di Pescara e con tutti gli altri enti ed organismi interessati, l'amministrazione regionale ha costituito un gruppo di lavoro per superare le criticità. La seconda delibera approvata riguarda la programmazione dei fondi PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 per la riqualificazione della sede che ospita la Lega Navale del Comune di Pescara. La Giunta ha poi deliberato un atto di indirizzo per concedere sostegni finanziari, mediante compartecipazione, per realizzare iniziative per promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici per l'annualità 2019, tenendo conto della legge regionale numero 53 del 97. L'esecutivo, dopo aver ascoltato la relazione dell'assessore Nicola Campitelli in vista della necessità di predisporre un nuovo testo unico di urbanistica ed edilizia, ha assegnato, ha designato, quindi ha nominato i componenti della Giunta regionale che parteciperanno al gruppo di lavoro. L'obiettivo è ridefinire la legge regionale, poi è stato deliberato un provvedimento per la formazione di un albo di esperti per l'affidamento di incarichi di commissario ad acta per l'esercizio dell'interesse sostitutivo regionale in materia urbanistica ed edilizia e l'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse. Nell'ambito del programma del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, è stato approvato, sempre dalla Giunta regionale, lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Ministero della Salute per quanto riguarda il progetto approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell'attività fisica nel setting scolastico. Inoltre è stato deciso di annullare due precedenti delibere di giunta che riguardavano la ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli enti e dei soggetti portatori di interesse dell'ASP di Pescara, ma anche la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Annullate queste due delibere, la Giunta ha disposto, in linea con i pareri giuridici in atti, di nominare Renata Durante, dirigente regionale del Dipartimento Lavoro e Sociale, quale commissario straordinario regionale dell'ASP della provincia di Pescara. Il conferimento di questo incarico durerà sei mesi che partono dall'insediamento. L'obiettivo è consentire la gestione dell'ente durante la legittima ricostituzione degli organi ordinari dell'azienda. Sono state approvate poi delibere di rilievo sociale, sia per quanto riguarda la valorizzazione del lavoro di cura del familiare, il caregiver, che assiste minori affetti da malattie rare in condizioni di disabilità gravissime, sia per quanto riguarda il fondo dopo di noi. Quest'ultima delibera ha l'obiettivo di consentire l'ammissione ai contributi per interventi su immobili destinati ad accogliere persone disabili. Infine è stato approvato un provvedimento di adeguamento contabile che consiste nella necessaria variazione di bilancio per pagare la transazione già intercorsa tra la Regione Abruzzo e la società su cui si era avviato un contenzioso per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione dell'esercizio di sei punti di produzione di energia elettrica che si devono trovare nel comune di Colonnella. La transazione era stata definita durante la precedente amministrazione. E cambiamo argomento. Su iniziativa delle ANCI, le Associazioni Nazionali dei Comuni Italiani Regionali e di ANCI Abruzzo, che hanno segnalato la drammatica situazione di carenza dei segretari comunali in tutte le regioni italiane, il Presidente nazionale Antonio De Caro con il Presidente dell'Unione Provincia Italiana Michele De Pascale ha scritto al Ministro dell'Interno, la Morgese, per chiedere la tempestiva comunicazione di un incontro in cui affrontare l'emergenza con misure risolutive straordinarie. In Italia le carenze di organico sono arrivate a 1.743 unità. In Abruzzo profonde criticità presenta la copertura delle sedi di classe quarta perché su un totale di 132 sedi ben 105 risultano vacanti. Si tratta dei comuni che hanno meno di 3.000 abitanti e che in regione sono 220 su 305. Per sedi non si intende il singolo comune, poiché molti comuni sono associati in convenzionamento. Quindi si stima che il 79% degli enti non abbia questa fondamentale figura, quella cioè del segretario comunale. La situazione è sicuramente conseguenza, secondo l'Anci, del notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo bando nazionale di concorso con cui furono assunti 224 segretari comunali e che fu indetto nel 2017. Bando di concorso che si trova ancora nella fase preselettiva, quindi si decise all'epoca di assumere questi 224 segretari comunali ma siamo ancora nella fase preselettiva e la conclusione per l'immissione in servizio ha ancora due anni di tempi tecnici. Tutto il sistema della pesca abruzzese sarà coinvolto con un confronto costante nelle operazioni di ripascimento come in altri interventi che la Regione ha in mente di attuare in vista della prossima stagione turistica e in previsione di tempi strutturali. Lo dice il Vice Presidente della Giunta regionale con delega la pesca, Emanuele Imprudente, alla luce delle considerazioni rese note dal Consorzio Coggevo. La Regione, spiega Imprudente, non ha intenzione di procedere in maniera unilaterale ma al contrario vuole tutelare legittimi interessi di tutti quelli che operano in questo settore. Il confronto, che peraltro in questi primi mesi di mandato mai è venuto meno, servirà, dice ancora Imprudente, a definire i dettagli, il programma degli interventi, le modalità e gli obiettivi, in modo da consentire al Coggevo, come ad altri, di organizzare al meglio la propria attività e tutelare ogni aspetto economico e ambientale. Montagna di plastica, cumuli di ferro, legno e rifiuti ingombranti abbondanti in un piazzale in via Breviglieri, a ridosso dell'area industriale di via Tiburtina, Pescara, un'area di 900 metri quadri sulla quale è scattato il sequestro ad opera dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Pescara, su ordine del Tribunale. Il piazzale era occupato da circa due anni ed era pieno di mobilio, materassi, stampanti ed altri rifiuti non smaltiti. L'area è di proprietà di un'impresa di autotrasporti denunciata. Al rappresentante legale, già indagato per parcheggio incontrollato di rifiuti, è stata lasciata l'area in deposito giudiziale. Venerdì, con inizio alle ore 9, nell'aula magna dell'Istituto Alessandrini di Montesilvano, di Via D'Agnese a Montesilvano, Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, interverrà all'incontro sul decreto sicurezza bis denominato Expatriare. Con il cappellano delle ONG Ionio e Mediterranea ci sarà anche il consigliere comunale di Montesilvano, con delega alla politica della casa, Marco Aurelio Getulio Forconi. E siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo coperto con nebbia fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, nuvoloso nel primo pomeriggio, poco nuvoloso nel resto del pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 14 a 18 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo molto nuvoloso fino alle ore centrali, nuvoloso nel pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 13 a 20 gradi e 20 deboli. in mare è previsto quasi calmo. È tutto, grazie per aver seguito questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. a cura della redazione giornalistica.